manca pochissimo al ritorno del grande fratello che ripartirà lunedì 16 settembre in prima serata su canale 5 tuttavia alfonso signorini e il pubblico del reality show dovranno affrontare una novità inaspettata pare infatti che il programma abbia perso un elemento importante e il pubblico dovrà abituarsi alla sua assenza secondo le anticipazioni condivise dal giornalista gabriele parpiglia e da alcune pagine social dedicate al grande fratello il format gf party è stato definitivamente eliminato questa trasmissione online su mediaset infinity permetteva a ex concorrenti e non solo di commentare in diretta gli avvenimenti della casa più spiata d'italia dopo quattro edizioni mediaset avrebbe deciso di mettere la parola fine a questo appuntamento anche se i motivi non sono stati resi noti l'anno scorso il gf party era condotto da anni mazzola e andrea dianetti e in passato aveva visto la partecipazione di volti noti come awed giulia salemi e soleil sorge ora però i fan dovranno fare a meno di questo spazio interattivo una scelta che ha diviso il pubblico tra chi ne è contento e chi ne sentirà la mancanza salemi e chi ne sentirà la mancanza salemi e chi ne sentirà la mancanza